Ben ritrovati allo spazio dedicato agli appuntamenti. Partiamo questa sera con una giornata dedicata ai più piccoli. A Bratto, al Parco della Montagna, alle ore 10 di martedì 9 luglio, si terranno una serie di letture animate. L'evento è stato organizzato da Turismo Presolana, divertimento assicurato. Sempre martedì 9 luglio, a Terno d'Isola, serata di musica live con l'esibizione dei partecipanti a Terno Scott Talent. A seguire, ancora musica con la cover band per una lira. Appuntamento alle 20.30 in piazza Sette Martiri. Ricordiamo inoltre per la serata di mercoledì 10 luglio l'appuntamento a Treviglio con una serata di shopping al Chiaro di Luna per le vie della città. In programma anche un'esibizione di violoncello del maestro Flavio Bombardieri. Parliamo ancora di spettacoli dedicati ai più piccoli. Mercoledì 10 luglio andrà in scena lo spettacolo Pinocchio Canzoni con il naso lungo con Carlo Biglioli. Appuntamento alle ore 17 al cortile dell'ex biblioteca Caversazia a Bergamo. Concludiamo ricordando il Carnevale Veneziano a Castione della Presolana. Mercoledì 10 luglio alle ore 21 ci sarà la sfilata in costumi d'epoca con partenza da Bratto e arrivo ad Orga tra danze rinascimentali e folcloristiche. Grazie 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 Grazie